Salve, in questo video vedremo come aggiornare il nostro profilo Moodle. Dopo aver effettuato l'accesso a Moodle, quindi dopo aver inserito il nostro nome utente e la nostra password, dobbiamo andare in alto a sinistra e cliccare sul nostro nome. Dopo clicchiamo su profilo. In questa schermata potremo aggiungere informazioni o modificare informazioni cliccando qui su modifica. Alcuni campi sono già stati automaticamente compilati come il nome o come l'indirizzo email, quindi questi campi non li possiamo modificare. Però possiamo aggiungere altre informazioni, per esempio nel campo descrizione, per esempio nel campo immagine dell'utente possiamo inserire una nostra fotografia. Clicchiamo sulla freccia e qui carichiamo dal nostro computer la fotografia che ci interessa. Una volta legata clicchiamo su carica questo file. Ci sono anche altre informazioni come per esempio nomi aggiuntivi, interessi, altre informazioni come il numero di telefono, l'indirizzo. Quando avremo compilato tutte le informazioni clicchiamo su aggiornamento profilo.